Buongiorno ragazzi, continuiamo le equazioni e disequazioni gognometiche elementari iniziate nel video precedente e concludiamo con un esempio sulla tangente e un esempio sulla cotangente. Vogliamo risolvere tangente di x uguale a radice di 3. Prima di vedere i passaggi per risolvere questa equazione ricordiamo i valori tipici noti della tangente. Vediamo di lavorare in un periodo della tangente da meno 90 gradi a più 90 gradi. Qui ho segnato i valori della tangente per gli angoli noti che sono meno 60 gradi, meno 45 gradi, meno 30 gradi, quelli che dovete sapere, i valori e 60 gradi. Come vedete 60 gradi è fuori dalla circonferenza come meno 60 gradi, 45 gradi è esattamente all'altezza sulle y del raggio 1 e più o meno 30 gradi invece sono piccolini e vicini all'origine. Facciamo una tabellina dove scriviamo i valori che dobbiamo conoscere, 60 gradi, 45 gradi, 30 gradi partendo dall'alto, meno 30 gradi, meno 45 gradi e meno 60 gradi. La tangente di 60 gradi è radice di 3, ha valore radice di 3, la tangente 45 è 1, tangente di 30 radice di 3 su 3 e poi i valori si ripetono, meno radice di 3 su 3 per meno 30 gradi, meno 1 per meno 45 gradi e meno radice di 3. Tutti gli altri, degli altri due quadranti ovviamente il secondo quadrante vado di nuovo a finire nella parte negativa del quarto quadrante, il terzo quadrante si riconduce al primo quadrante. Vediamo ora i passaggi che dobbiamo fare per risolvere l'equazione sopra. Prima cosa tiro la retta tangente nel punto A che abbiamo segnato nella figura. Trovo quindi sulla retta rosa l'altezza radice di 3, l'unisco con l'origine e riconosco gli angoli, tornando magari ai triangolini che abbiamo visto nei primi due esempi dell'altro video e dopo aggiungo periodicità. Vediamo nella pratica, rifacciamo un attimino la nostra circonferenza goniometrica e vediamo come procedere. Scriviamo quindi un attimo l'esercizio che è rimasto coperto dalla parte già del video svolta, quindi tangente di x uguale a radice di 3 e andiamo a disegnare quindi la retta tangente alla circonferenza in A, che avevamo chiamato A, quel punto di intersezione con l'asse x e la circonferenza. Ora vado a mettermi sulla retta verde ad alterza radice di 3 e poi unisco con l'origine e fino a uscire dall'altra parte. Posso disegnare il triangolino unendo il punto dell'intersezione con l'origine e l'asse x e riconoscere dalle dimensioni, se ho fatto un disegno buono che l'angolo al centro è di 60 gradi. Oppure, visto che sono solo 6 valori noti e poi gli altri li posso ricavare, io so che radice di 3, che è il valore alto oltre la fine della circonferenza, corrisponde a 60 gradi. Di conseguenza quello dall'altra parte sarà di 240 gradi. Scriviamo le due soluzioni come siamo sempre stati abituati, quindi ho due soluzioni tra 0 e 360 gradi e le possiamo scrivere tutte e due. Ma non è la forma migliore, perché quando ho una tangente, una cotangente che ha periodicità pi greco, io posso scrivere e devo scrivere una sola soluzione, una delle due, 60 gradi più k 180. Con k uguale a 1 ritrovo 240, quindi così con quella scrittura io comprendo tutte le soluzioni con le loro periodicità. Vediamo ora di risolvere la disequazione e vedere quali sono i passaggi per fare una disequazione con la tangente. Prendiamo lo stesso esercizio, tangente di x maggiore di radice di 3. Allora, i passaggi da fare sono due. I soliti, ormai l'abbiamo capito, risolvere l'equazione associata, trovare gli angoli e poi non scegliere le parti di circonferenza, partire dalla parte diretta che soddisfa la disequazione e di conseguenza trovare le parti di circonferenza che soddisfano e quindi gli angoli che soddisfano la disequazione. Vediamo bene nella pratica. Io voglio trovare tutti gli angoli che hanno tangente maggiore di radice di 3. Quindi ci siamo che, se li vado a mettere sulla retta verde, sono nella parte colorata di rosso? Ma se io prendo un punto adesso in quella zona lì, lo unisco con il centro della circonferenza e esco dall'altra parte, siamo tutti queste rette, sono in quei due pezzettini colorati di rosso. Quindi le mie soluzioni sono tutti gli angoli compresi tra 60 e 90 e tra 2,40 e 2,70. Scrivendo un unico intervallo con la periodicità di 180 trovo tutte le soluzioni. 60 più k 180 minore di x minore di 90 più k 180 e sotto vi ho messo anche la soluzione in radianti. Pi greca terzi più k pi greco minore di x minore di pi greca mezzi. Riassumendo, quando ho da fare la tangente di x maggiore di a, io prendo la parte diretta verde che sta sopra la posizione di a. Il nostro a era radice di 3. Se invece devo risolvere la disequazione tangente di x minore di a, prenderò la parte diretta sotto il valore a, che può essere positivo o negativo. Faccio due prove tirando le rette, partendo dalla zona rossa che mi serve, e cerco e scelgo le parti di circonferenza che soddisfano l'equazione, trovando quindi gli angoli. Vediamo ora un esempio con l'ultimo protagonista. Vediamo un esempio con la cotangente. Cotangente di x uguale a meno 1. Ricordiamo anche qui che per i valori della cotangente devo prendere una retta tangente alla circonferenza, ma in 90 gradi. Mettiamo gli angoli noti, 30 gradi. Vedete che 30 gradi questa volta taglia su quella retta arancione un segmento molto lungo? 45 gradi, un segmento lungo come il raggio, 60 gradi, un segmento piccolino. Ricordatevi che bisogna iniziare a contare la lunghezza di quel segmento con l'intersezione, con l'asse Y, Y, retta arancione con l'asse Y. 120 gradi, 135 gradi e 150. Quindi la periodicità che ho scelto è quella tra 0 e pi greco. Allora, facciamo la tabellina. Periodicità 0, pi greco, da una parte a sinistra gli angoli noti e dall'altra parte. 30 gradi la cotangente è radice di 3 perché il segmento è lungo questa volta. in 45 gradi sarà ancora 1, in 60 gradi sarà piccolino il segmentino. Quindi anche questa volta vale radice di 3 su 3. Dall'altra parte avrò un meno radice di 3 su 3, in 135 meno 1 e in 150 meno radice di 3. Terzo quadrante ritrovo i valori del primo quadrante, quarto quadrante posso riportarli ai valori del secondo quadrante, sempre sulla retta arancione che ho disegnato. Detto questo, riprendiamo l'esercizio e vediamo i passaggi. I passaggi da fare sono tre. Primo, traccio la mia retta tangente nell'angolo che corrisponde a 90 gradi, che avevamo chiamato B. Due, riconosco gli angoli, quindi riconosco mettendomi sulla retta arancione nella distanza data dall'esercizio, che in questo caso è, e vedremo, meno 1, e quindi riconosco gli angoli della circonferenza che hanno quella come tangente. Dopodiché, ultimo passaggio, qui ho riscritto quello che ho appena detto, ultimo passaggio, aggiungo la periodicità. Consideriamo quindi la nostra circonferenza, prendiamo la nostra retta tangente e ci mettiamo sulla retta arancione a distanza dal punto B, che è l'intersezione della retta con l'asse delle y, a distanza meno 1. Dopodiché, tiro la retta che unisce questo meno 1 al centro della circonferenza fino a uscire dall'altra parte. Riconosco l'angolo, sia perché posso disegnare il triangolino dal punto di intersezione con la circonferenza, sia perché è uno dei sei valori noti. Quell'angolo al centro è di 45 gradi, e quindi anche l'altro angolo è di 45 gradi. I due angoli, quindi, che soddisfano la mia equazione, sono 45 gradi, il primo che incontro partendo dall'origine, e poi quello dall'altra parte che avrà ovviamente 315 come ampiezza. Oppure, se vado in senso anti-orario, 315, se no, andando in senso orario, meno 45 gradi. Posso usare uno dei tre angoli a caso, o 135, 315 o meno 45. Posso scrivere le due soluzioni, ma come per la tangente ricordarci che, essendo periodica di pi greco, devo scrivere un'unica soluzione. E questa soluzione può essere 135, che è il primo angolo che trovo partendo da zero, più k 180, oppure posso anche scrivere meno 45 più k 180. Con k uguale a 1 ritrovo 135, con k uguale a 2 ritrovo 315. Le soluzioni sono uguali. Andiamo a risolvere la disequazione, cotangente di x maggiore di 1. I passaggi, come abbiamo detto nei tre casi precedenti, sono i soliti. Risolvo l'equazione associata e scelgo la parte giusta di circonferenza, partendo ovviamente per tangente e cotangente dalla parte diretta che sto colorando. Cotangente maggiore di meno 1, tutti i punti che soddisfano stanno lì. Prendiamone qualcuno e vediamo dove vanno a finire nella circonferenza. Vedete? Vanno a finire in quali parti di circonferenza. Se parto da zero, troverò quindi soluzioni da zero, non lì. Quelle sono le parti dove non sono cadute le mie rette rosse. Quindi se parto da zero, le soluzioni saranno da zero a 135. Quelle sono tutte soluzioni. Se tiro la retta vado nella zona della retta arancione che ho svirgolettato. E quelle sotto, da 180 fino a 315. Anche qui possiamo scrivere un solo pezzo blu. Con la periodicità kπ, le becco anche l'altro. Quindi posso scrivere da zero più kπ minore di x minore di 135, ma abbiamo scritto π, quindi tre quarti π più kπ, oppure scrivere l'altra. È uguale. Scriviamo anche in gradi. Zero più k 180 minore di x minore di 135 più k 180. Concludiamo scrivendo che quando ho a che fare con gli esercizi di disequazione elementari cotangente maggiore di a, considero la parte diretta a destra di a, nella parte ovviamente delle x crescenti, mentre quando ho a che fare con la cotangente di x minore di a, considero la parte diretta a sinistra di a. Poi, facendo anche delle prove, tirando quindi delle rette, scelgo le zone della circonferenza.